Non ero venuto per pregare con voi oggi, ma devo confessare che guardando queste concorrenti al titolo di Misconsapevolezza Negra, io mi sento bene, mi sento meglio, perché so che c'è un Dio da qualche parte, c'è un Dio da qualche parte, avanti ragazzi e voltatevi per favore, voi tutti sapete che c'è un Dio che siede lassù e osserva noi qua giù, nessun uomo può creare con tanta bellezza, Giorgia Hamilton, Hugh Hefler, forse possono fotografarla suo Dio lassù, lo Hugh Hefler dei cieli può farlo per voi, penso che siano le migliori ragazze che il Queen sa da offrire, scegliene una e andiamo, potete invocare il suo nome amico mio. Signore, lo amate voi? Sii! Fate gioia, dite gioia! Sii! Gioia! 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 Posso sentire amen adesso? Sì, signore, amen, 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 fratello! Amen! Signore! Non bisogna invocare il suo nome! Amen! Signore! Signore! Non tanto Dio può donare a quella ragazza la gioia che sta sentendo ora! Amen! Coraggio, fate un gioioso baccano per il Signore! Amen! Sono felice di essere qui con voi! Amen! Amen! Credo, giovanotto! Ancora amen, che le dite? Amen! Amen! Io non so cosa voi siete venuti a fare, ma io voglio invocare il suo nome! Signore, signore! Ragazze, potete andare ora, grazie di cuore! C'è un Dio da qualche parte!